In occasione della visita di Papa Francesco alla Sindone, il Consiglio regionale, in collaborazione con il Corecom e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha realizzato il documentario Le parole di Francesco, presentato presso il Centro Incontri della Regione. Il filmato raccoglie, divisi per argomento, selezione di discorsi, omelie e interventi pronunciati da Papa Francesco e propone i termini cardine del suo pontificato. Le parole di Papa Francesco parlano al cuore dell'uomo, non tanto all'intelligenza, certo il discorso è logico, il discorso è intelligente, ma parlano al cuore che è un'altra dimensione dell'uomo, cioè parlano alle realtà della vita, come vivere, cosa considerare importante nella vita e che cos'è secondario. E' per questo che la gente semplice, la gente del popolo così lo apprezza molto, perché sente che dice le cose di cui ha bisogno, le cose che ha bisogno di sentirsi dire per essere incoraggiata, sostenuta, per sapere come vivere, cosa scegliere nella vita. Questo Papa ci ha riabituato a parole di cui forse si aveva un po' di vergogna nel pronunciarle, erano state in qualche modo messe nel dimenticatoio, misericordia, consolazione, carità e la globalizzazione dell'indifferenza, l'amore, gli emarginati. Ecco allora che in qualche modo noi abbiamo messo insieme questo documentario dove la voce narrante è quella del Papa, recuperando tutte le sue frasi più significative, contornate da migliaia e migliaia di volti, abbracci, bambini, donne, uomini, per recuperare in qualche modo quelle parole che affondano le loro radici nella parola con la P maiuscola, che è la parola di Gesù nei Vangeli. Grazie.